Si aggiunge un altro tassello per rendere questa scuola sempre più fruibile ma soprattutto per dare ancora un'opportunità ai giovani del quartiere. Sicuramente ma non solo questo, oggi una giornata speciale per una persona speciale, la vorrei sintetizzare così perché la biblioteca che inaugureremo avrà il nome di Giovanni Casano, l'avvocato che da un anno è scomparso e che ha lasciato un segno importante nella città di Gela. Oggi non è soltanto la giornata per riprendere ad ambiorraggio il tema della legalità con lo sguardo e il cuore a Giovanni Falcone ma ad un uomo che è stato molto vicino alla nostra città e che ha avuto un grande interesse per i giovani. Infatti oggi è stata pensata come una giornata semplice di scuola per affrontare il tema della legalità partendo da una citazione dell'avvocato Casano, chi rispetta le regole è libero. Su questo tema i ragazzi della provincia di Caltanissetta si sono confrontati partecipando al concorso che noi abbiamo indetto. Oggi ci sarà la premiazione e a conclusione ci sarà la possibilità di aprire questa biblioteca che è uno spazio fruibile per i ragazzi della nostra scuola e per la città. Dedicare una biblioteca a un avvocato che ha esercitato la sua professione per molti anni nel foro di Gela diventa davvero un fatto di prestigio ma per tutto il foro. Oggi è un motivo di orgoglio non solo per la famiglia dell'avvocato Casano ma devo dire per tutto l'ordine gelese perché è veramente una figura, una grande figura. L'avvocato Casano è stato uno dei pilastri dell'avvocatura gelese, è stato un grande penalista, è stato un grande maestro per tanti professionisti. Qual è il ricordo più bello che conserva dell'avvocato Casano? Io ricordo di Giovanni Casano dei ricordi personali importantissimi ma intanto quello che lui fondò la scuola dei penalisti a Gela invertendo quella diaspora che vedeva i gelesi recarsi a Caltanissetta presso sia pure il glorioso foro di Caltanissetta. Invertì con tanti sacrifici, allora Caltanissetta la si raggiungeva in un'ora e mezza. Quindi la sua tenacia, la sua fede assoluta nella professionalità e la sua fierezza non fu mai prono né adulatore verso, seppure rispettoso, dell'istituzione della magistratura. Lo ricordo poi perché a lui debbo il primo mio grande processo che lui in un'estate di grande fatica ebbe a cedermi pregandomi di sostituirlo e di fare mio quel processo e quello fu poi il mio trampolino di lancio. Ma poi ci sono tante tante altre cose, l'impegno, la passione civile, l'impegno per ogni cosa che lui faceva. Si è conclusa con la Notte Europea dei Musei, le Mura di Notte, la quarta edizione della Primavera dell'Arte promossa dal gruppo archeologico d'Italia Gelo e Tischerion in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio. Un calendario fitto di appuntamenti che ha richiamato l'attenzione di numerosi appassionati di beni archeologici e non solo. Ultimo appuntamento sabato nella splendida location delle Mura a Timoreontè. Un viaggio nel passato grazie alla presenza di numerosi volontari che hanno personificato i protagonisti dell'epoca greca. Abbiamo voluto chiudere con un grande evento, con la visita notturna delle fortificazioni greche di Capo Soprano e la gente ha partecipato ben oltre le nostre aspettative. È stata una primavera dell'arte esaltante, straordinaria, che vogliamo ripetere nel tempo e che ci ha fatto veramente divertire, soprattutto collaborando con le altre associazioni. È un modo per fruire delle nostre valenze anche la sera, perché questo è uno spazio del territorio, uno spazio del gelese. E quindi era un'occasione per stare insieme, per passare una serata a fruire sotto occhi diversi quelle che sono le nostre valenze e le mure. Proprio oggi è una giornata particolare dove c'è questa luna piena. Io sono onorato di essere qua stasera e ringrazio tantissimo il nostro direttore del museo, l'architetto Ennio Turco, e soprattutto al presidente dell'associazione culturale Trischelion che mi ha dato questa opportunità. O è settato di un buon grado e l'avvenimento si sta rivelando molto festoso e abbastanza gradevole. Tutto sommato è una gran bella serata, una gran bella luna per chi ha il piacere di guardarle ed uscire fuori, per cui le premesse sono buone, quantomeno sotto questo profilo. Speriamo che anche quanti siano venuti a vedere possano godere di questo ambiente naturale, per certi versi unico forse che ci ritroviamo a Gela. È un punto di partenza? Sì, l'abbiamo già detto. Per noi è tutto un punto di partenza in tutti i settori. E anche questo che per certi versi serve non solo a rianimare, a dare vivacità al territorio, ma serve a, speriamo, a tirar fuori il meglio che abbiamo in questa città. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e speriamo di riuscire col tempo anche in questo. Il talento delle donne nell'editoria, Elvira Selleri, un'ora fa che forgia gioielli di carta, è stato il tema dibattuto nei locali del Teatro Comunale Schilo di Gela, nell'ambito del convegno distrettuale della FIDAPA. A sei anni dalla sua scomparsa, in tanti hanno voluto rendere omaggio alla scrittrice palermitana. Elvira Selleri o si è sempre occupata di saggistica e narrativa. Parliamo di una grande figura di donna, una figura che ci ha dato anche visibilità a carattere nazionale e internazionale. Elvira Selleri ha lasciato tutto, a parte il lavoro che negli anni ha fatto, alla scoperta di grandi scrittori e di persone che hanno davvero portato in giro la sicilianità e quello che noi rappresentiamo. Elvira Selleri è stata una grande donna, prima che sia una grande editrice, una donna di grande cultura e di grande capacità imprenditoriale e culturale. E cosa ha lasciato? Beh, ha lasciato un'eredità importante che i figli stanno portando avanti in maniera molto egregia. L'iniziativa giolese è stata promossa dalle vicepresidenti delle sezioni Fidapa di Caltagirone, Caltanissetta, Gela, Miscemi e Serra di Falco. È stato un lavoro, diciamo, in rete che ha coinvolto tutte le vicepresidenti e le presidenti di sezione di questo territorio. Il convegno ha rappresentato un momento di ricordo di una delle personalità più brillanti della cultura siciliana dell'ultimo secolo. È una donna modernissima, di una apertura mentale eccezionale, e si è visto ampiamente, di una capacità di comprensione umana formidabile. Il suo ruolo nella cultura siciliana del secondo novecento è sicuramente stato di preponderante importanza. E quindi sicuramente il nostro obiettivo, il nostro piccolo contributo, vuole essere quello di mantenere viva la memoria perché possa continuare questa sua opera, questo suo lavoro attraverso anche noi. A giugno avremo anche il gemellaggio con Messina, sarebbe praticamente la seconda fase perché la prima fase è stata svolta l'anno scorso quando appunto era presidente la professoressa Angela Encardona. Quest'anno ci sarà il ritorno di questo momento particolarmente importante e Messina, diciamo, i rappresentanti di Messina verranno qui a Gela e li ospiteremo nella nostra aula consigliare. Il talento delle donne nell'editoria Elvira Sellerio un'ora fa che forgia gioielli di carta è stato il tema dibattuto nei locali del Teatro Comunale Eschilo di Gela nell'ambito del convegno distrettuale della Fidapa. A sei anni dalla sua scomparsa, in tanti hanno voluto rendere omaggio alla scrittrice palermitana. Elvira Sellerio si è sempre occupata di saggistica e narrativa. Parliamo di una grande figura di donna, una figura che ci ha dato anche visibilità a carattere nazionale e internazionale. Elvira Sellerio ha lasciato tutto, a parte il lavoro che negli anni ha fatto alla scoperta di grandi scrittori e di persone che hanno davvero portato in giro la sicilianità e quello che noi rappresentiamo. Elvira Sellerio è stata una grande donna, prima che sia una grande editrice, una donna di grande cultura e di grande capacità imprenditoriale e culturale. E cosa ha lasciato? Beh, ha lasciato un'eredità importante che i figli stanno portando avanti in maniera molto egregia. L'iniziativa giolese è stata promossa dalle vicepresidenti delle sezioni FIDAPA di Caltagirone, Caltanissetta, Gela, Miscemi e Serra di Falco. È stato un lavoro in rete che ha coinvolto tutte le vicepresidente e le presidenti di sezione di questo territorio. Il convegno ha rappresentato un momento di ricordo di una delle personalità più brillanti della cultura siciliana dell'ultimo secolo. È una donna modernissima, di una apertura mentale eccezionale, e si è visto ampiamente, di una capacità di comprensione umana formidabile. Il suo ruolo nella cultura siciliana del secondo novecento è sicuramente stato di preponderante importanza. E quindi sicuramente il nostro obiettivo, il nostro piccolo contributo, vuole essere quello di mantenere viva la memoria perché possa continuare questa sua opera, questo suo lavoro attraverso anche noi. A giugno avremo anche il gemellaggio con Messina. Sarebbe praticamente la seconda fase perché la prima fase è stata svolta l'anno scorso quando appunto era presidente la professoressa Angela in Cardona. Quest'anno ci sarà il ritorno di questo momento particolarmente importante e i rappresentanti di Messina verranno qui a Gela e li ospiteremo nella nostra aula consigliare. Amicizia e solidarietà, si tratta della settima edizione del torneo di calcio promosso dall'Istituto Salvatore Quasimodo di Gela. Si è svolto sul terreno di gioco ex punto Juve di Viale Enrico Mattei nel quartiere Macchitella. Obiettivo raggiunto è stato quello di unire i valori dello sport e del sociale. Poco prima delle partite infatti si è svolta una raccolta di generi alimentari di prima necessità tra gli alunni della scuola diretta da Maurizio Tedesco e le loro famiglie al fine di sostenere il banco alimentare della parrocchia Regina Pacis. È un momento celebrativo di una alleanza educativa importante che è quella che bisogna stabilire fra la scuola ma soprattutto la famiglia che è la principale agenzia educativa e anche la parrocchia e l'oratorio parrocchiale. Senza questa sinergia di intenti, sinergia di azioni, ogni possibilità che l'intervento educativo possa avere efficacia potrebbe risultare compromessa. Quindi è importante come momento celebrativo naturalmente che giunge a fine anno ed è una tradizione che vogliamo noi continuare perché riteniamo assolutamente importante dedicare un momento di riflessione ad un aspetto da non trascurare. Abbiamo la possibilità di stare assieme ai nostri figli e quindi anche con l'istituto in cui vanno a scuola e quindi per noi è una giornata importante che è appunto proprio per stare assieme ai figli e giocare e fare questa nuova esperienza. Questa è un'iniziativa che abbiamo fatto per molti anni e continuiamo a riproporre per quanto è possibile perché crediamo in queste forme di solidarietà e soprattutto di messaggio per i ragazzi, per i giovani. La partita diventa l'occasione di stare insieme, genitori, professori, il CESMA, ma soprattutto un momento aggregativo, formativo per i giovani. Nel corso dell'iniziativa si è tenuta pure la prima azione del concorso letterario Le parole della libertà, primo premio per Carla Sillitti, Salvatore Casisi e Francesca Romano. Partito Democratico di Gela, compatto in merito al referendum sulle riforme costituzionali, tutti per il sì. Appuntamento ieri sera nei locali dell'hotel Sileno. C'erano i fedelissimi del segretario Pepe Di Cristina e i renziani vicini all'ex sindaco Angelo Fasuro. Tutti insieme. Una tregua? Staremo a vedere. Per il PD basta un sì per dire addio al bicameralismo paritario, per garantire stabilità e partecipazione, per cancellare poltrone e stipendi e per togliere poteri alle regioni inefficienti. Il referendum costituzionale con cui verrà deciso se approvare o respingere la legge Boschi, cioè la riforma della Costituzione voluta dal governo Renzi, si trarrà il prossimo ottobre. Si tratta di un appuntamento che ha una valenza politica non indifferente. Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto più volte che si ritirerà dalla politica se dovesse essere sconfitto. Sui temi e sulle questioni ritroviamo la passione per la politica e riconvolgiamo il gruppo dirigente. Il sì per avere uno Stato più efficiente, più snello e per superare tutti quei limiti che in questi anni hanno reso l'Italia ingessata. Su tutti avere due Camere che fanno la stessa cosa, superare il snello e superare le province. Insomma avere un'Italia più occidentale anche sul piano istituzionale. Le leggi verranno promulgate in tempi più brevi e la seconda cosa che tutti trascurano è la modifica del titolo quinto che in altre parole significa la diminuzione delle proroghe che hanno le regioni e i comuni. Quindi per le cose importantissime tipo autostrade, strade ferrate, dove prima bisognava acquisire il parere delle regioni e dei comuni, che vengono direttamente programmate, progettate ed eseguite direttamente dallo Stato senza i pareri. Così le opere possono essere fatte immediatamente in tempi più brevi e più sicuri. Verranno eliminate molte poltrone perché il Senato verrà ridotto a 100 posti. Verrà eliminato il CNEL che prima era un posto di sottogoverno per politici trombati o per altre agende. Per altre agende è quindi un risparmio notevole di soldi, quindi è necessario votare sì, sia perché risparmieremo, sia perché avremo opere pubbliche di un'importanza notevole e che verranno realizzate in tempi più brevi. Siamo di fronte a una riforma che modernizza il Paese. Dopo l'esito del referendum, sul quale contiamo moltissimo, per questo stiamo mettendo in campo iniziative forti per un sì netto al referendum, potremmo dire di aver superato la seconda Repubblica. Si parla dunque di referendum, ma l'avvertenza Gela a che punto è? Lo abbiamo chiesto a Peppe Di Cristina. Il caso Gela resta centrale. Noi stiamo parlando dell'avvertenza Gela e siamo sempre concentrati, come lei sa, abbiamo messo in campo diverse iniziative e altri ne metteremo. Nel frattempo un grande partito discute di altro. Il Partito Democratico è un partito concentrato anche in questa grande campagna referendaria nazionale, che è una compagna per il Paese e che non è assolutamente subordinata agli altri problemi, perché avere un Paese più efficiente, più moderno e con la possibilità di sapere che chi vince le elezioni può governare per cinque anni prendendosi la responsabilità, penso che sia un fatto assolutamente positivo. Oggi gli chef si misureranno in una competizione per realizzare dei piatti completamente gluten free. È una cucina che chiaramente è attenzionata a molto di più in questo periodo, perché chiaramente la celiachia è un disturbo che è stato approfondito soltanto negli ultimi decenni. Si va a valorizzare, a portare avanti questo Q2MP che è un po' nascosto alla gente di uscire fuori casa, che possono andare tranquillamente nei ristoranti e nella ristorazione a mangiare senza problemi, perché molta gente, molti operatori sono già qualificati e si stanno ancora continuando a qualificare. Solitamente noi cerchiamo di fare un'alimentazione quasi comparata all'alimentazione che noi facciamo ai nostri clienti, cercando di non far capire e distinguere le due diverse pietanze tra gli altri commensali, dunque metterli allo stesso livello e non metterli neanche in disagio all'interno di un contesto, di un evento, di un manchetto. Le cucine che devono operare per quanto riguarda la preparazione di pasti gluten free devono essere degli ambienti totalmente separati dagli ambienti della cucina classica. Recentemente la celiachia è uno degli argomenti più diffusi, si sono creati gruppi sui social network, ecco quanto la diffusione di questa notizia poi ha facilitato anche il riconoscimento della stessa. L'impatto mediatico è fondamentale, io per questo ringrazio l'AIC per il supporto che sta dando questa nostra terza manifestazione. Gela diventa la capitale del discorso sulle celiachie e del gluten free, non a caso. È un percorso che stiamo portando avanti proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto gli operatori della ristorazione su questo tema. Sui social il confronto è sempre molto vivo, cioè chi soffre di questo disturbo si confronta con gli altri, chiede informazioni. Questo è anche molto importante per non sentirsi in un certo senso isolati? L'isolamento c'è ed esiste perché non tutti i ristoranti ad esempio hanno la possibilità di offrire un percorso gluten free. Cosa significa percorso gluten free? Dall'aperitivo al dolce, esteticamente e cromaticamente lo stesso percorso degli altri. È chiaro che il tam tam mediatico ha scatenato una sensibilità diversa e mi auguro che continua a crescere. Assessore, dedicare una giornata a chi soffre del disturbo di celiachia è importante per il principio nobile e dell'inclusione anche quando si sta a tavola. Ma è importante anche per effettuare una formazione nei confronti dei ristoratori gelesi, insomma della collettività nostra sul tema della celiachia, che ancora oggi non è molto compresa tra i ristoratori locali. In Sicilia moglie abbandonate, spose gravide, figlie ripudiate o sfuggite all'emarginazione si riunirono in una casa ai margini dell'abitato e lì iniziarono a condividere una vera esperienza comunitaria. Era il 1600, vennero chiamate le streghe di Lenzavacche, furono però fraintese, bollate come folli, viste come corruttrici e esticatrici del demonio. Se ne parla nella libro scritto dal magistrato Siracusano Simona Loiacono, finalista del Premio Strega 2016. Un bel dono, un'occasione veramente di grande gioia, di condivisione anche con gli altri autori finalisti. Una bellissima soddisfazione, un bel percorso anche umano, spirituale, molto bello, molto intenso. Le tematiche sono certamente forti, nel senso che è un libro sulla diversità, sull'emarginazione, sulla tutela dei piccoli, dei deboli e quindi effettivamente affronta dei temi a me molto cari e di grande impatto anche emotivo. E quindi speriamo che possa avere fortuna e che possa fare un bel percorso. Il volume è stato presentato nei locali della libreria Mondadori di Gela. L'iniziativa è stata introdotta da Lina Orlando. A relazionare sul testo è stato il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Alcuni brani sono stati letti dall'attrice teatrale Maria Giannone. Presentare un libro come Le streghe di Lenza Vacche di Simona Loiacono è un'esperienza importante. Importante non solo per chi è stata insegnita di accompagnare la scrittrice in questa chiacchierata, ma anche proprio per Gela. Perché questa è una scrittrice che ha un passato, un presente molto ricco, molto particolare. È una donna magistrato che scrive per passione e che ha scritto un libro veramente mirabile dai contenuti profondi che affrontano il tema dell'amore, della pietà, della disabilità, dell'ignoranza che circonda tutto ciò che è diverso. Ambientato in una Sicilia ancestrale o quasi, sebbene negli anni 30, è una donna magistrato e scrittrice che con questo libro può sicuramente raggiungere grandi risultati. E' terminato il progetto denominato Liberi da, Liberi di, con un incontro che si è svolto alla Scuola Giovanni Verga, diretta da Viviana Aldisio alla presenza del dirigente Rosalba Marchisciana, capofila del progetto, con gli istituti Lombardo Radice e Albani Roccella. Obiettivo del corso è stato informare e formare gli studenti sui fattori a rischio legati all'uso di alcol, droghe, fumo, giochi d'azzardo e ogni altro tipo di dipendenza, favorendo la scelta di stili di vita positivi, seguendo l'esempio di un pari secondo il metodo educativo della Peer Education. Preside, scuole in rete per continuare a dialogare con i ragazzi, affinché questo dialogo sia sempre continuo, ma soprattutto produttivo di effetti, a breve e lungo termine. In questo caso parliamo di dipendenze ed è molto difficile parlarne, soprattutto con la famiglia. Assolutamente sì, motivo per cui la modalità con cui il progetto si è sviluppato è sicuramente la modalità migliore. Formare i ragazzi e renderli attori i protagonisti della loro formazione. Il metodo fra pari è il metodo che meglio li coinvolge e li fa, chiaramente li responsabilizza rispetto alle conoscenze e quindi alle competenze che acquisiscono a fine progetto. Mi sono rivolta ai ragazzi definendoli sentinelle di quelli che sono i valori della buona condotta ed educazione che noi ci auguriamo che loro portino avanti nella vita per sempre. Liberi dalle dipendenze non solo oggi, ragazzi indipendenti e curati, questo è il ruolo migliore che la scuola debba sicuramente svolgere per una sana crescita. Quali sono i principali fattori di rischio che possono indurre soggetti anche giovanissimi a essere dipendenti da qualunque cosa? Ma sono delle problematiche ovviamente multifattoriali, quindi non c'è un solo fattore. Quindi i fattori sono tanti, noi abbiamo nella società fattori protettivi e fattori invece predittivi di patologia. Quindi quali sono i fattori protettivi, ad esempio avere una famiglia sana che funziona. Adesso avere una famiglia sana che funziona non sempre è dettata dall'apparenza, ma poi nella sostanza di capire le relazioni intrafamiliari. Il quartiere in cui vive un ragazzino è un quartiere dove ci sono delle pratiche oppure no. Anche il fatto di frequentare la parrocchia, frequentare altri gruppi sani, quali gli scout sono fattori protettivi. I fattori sono tantissimi. Liberi di, liberi da, da ogni forma di dipendenza. E oggi le dinamiche relazionali che determinano dipendenza sono diverse. Quindi si va oltre la dipendenza da sostanze stupefacenti. Ci sono dinamiche molto più moderne che riguardano la dipendenza dalle tecnologie, la dipendenza dal gioco d'azzardo. Sono questi i temi che i ragazzi hanno affrontato. Ed è stato bello avere messo insieme ragazzi di scuole differenti che appartengono a due quartieri differenti. È stato un modo per capire le dinamiche sociali e anche antropologiche che riguardano la nostra città. È un modo per rendere i ragazzi consapevoli di quei comportamenti che a volte vivono in modo superficiale. Soltanto nell'ultimo decennio si comincia a parlare e diffondere quello che è il concetto della celiachia. Prima questo disturbo non era conosciuto e i suoi effetti venivano confusi per effetti di altre patologie. Che cosa è cambiato? Circa vent'anni fa la patologia già esistente, se vuoi per motivi di scarsa tecnologia diagnostica, non veniva riconosciuta facilmente. Oggi con le moderne tecnologie si riesce a fare quasi subito diagnosi di celiachia e quindi una pronta terapia che consiste nell'allontanare dalla dieta il glutine. Il glutine purtroppo oggi si trova ovunque, è entrato a far parte in tanti cicli produttivi delle catene alimentari. Quindi non è facile per il soggetto celiaco trovare gli alimenti adatti. Che cosa vuol dire per un celiaco essere associati e quindi avere il sostegno di altri soggetti che vivono la stessa situazione? L'Associazione Italiana di Celiachia è di supporto al celiaco che appunto nella fase della diagnosi affronta questo problema. L'Associazione Italiana di Celiachia ha diversi progetti in tutto il territorio nazionale, in particolare quello di formare e informare i locali, quindi i ristoranti, i gelaterie, hotel della ristorazione e quindi del poter fare la cucina senza glutine e informazioni di tipo scientifico. Ci sono infatti delle dietiste, dei professionisti che formano, si organizzano dei convegni e cose e quant'altro. E poi l'Associazione Italiana di Celiachia è presente anche nelle scuole con il progetto in fuga dal glutine, quindi per educare gli insegnanti di ragazzi e ragazzini che possono avere appunto intolleranze al glutine e fornisce materiali utili come il prontuario o la guida dell'alimentazione fuori casa per aiutare il celiaco a gestire appunto la sua condizione. Una persona che scopre di essere celiaco a primo impatto ovviamente deve cambiare il suo stile di vita, le sue abitudini, il modo di mangiare, come cucinare, un po' tutto. Per cui ovviamente così a primo impatto è abbastanza traumatico. IC fornisce materiale divulgativo, non solo cartaceo ma online, su app, quindi nel momento in cui sei un neodiagnosticato hai subito modo di poter avere qualcuno al fianco. Difatti il mio impegno in IC vuole essere questo, poter essere un punto di riferimento per quanti sono in questa condizione e si sentono spauriti, perché all'inizio effettivamente crea ansia, difficoltà, poi se si è a contatto con un bimbo questa cosa diventa ancora più complicata. Preside, dopo tantissime fatiche, dopo un successo strepitoso in teatro, arrivano anche altre soddisfazioni, perché al netto delle spese siete riusciti ad accumulare la somma di oltre 2.300 euro, che servirà a che cosa? Allora, questi, siccome era questo il progetto, serviranno per acquistare dei libri da dare incomodato d'uso ai ragazzini che si iscriveranno, che sono già iscritti, e frequenteranno la prima media l'anno prossimo. Questo perché? Perché da un sondaggio è chiaro che un progetto nasce da un bisogno. In questi due o tre anni, gli ultimi soprattutto, mi sono accorta che molti ragazzini, pur essendo motivati, pur avendo piacere di venire a scuola, si sono trovati in difficoltà perché i genitori, disoccupati per varie ragioni, perché non parlo solo dei dipendenti dell'Eni, ma parlo anche di commercianti, di famiglie che si sono trovate in gravi difficoltà. Ora, siamo chiari, questa distribuzione dei libri sarà fatta attraverso la presentazione dell'ISEE, in maniera che si possano valutare le famiglie che hanno realmente bisogno. Quindi attraverso dei criteri oggettivi andrete a valutare laddove ci sono delle necessità e la scuola viene incontro. È un gesto sicuramente bellissimo che però risolverà anche dei problemi di mancanza di libri nei primi giorni di scuola, cosa che spesso è accaduta. Eh sì, eh sì, ma non solo questo. Noi l'abbiamo fatto e ci siamo veramente messi in gioco perché nessuno di noi è attore o attrice, ma l'abbiamo fatto veramente col cuore. E io ringrazio i miei docenti, i genitori, l'intero consiglio d'istituto che pur non avendo mai nemmeno l'idea di cosa fosse un copione, ci siamo cimentati ed è andata bene. Che cosa si augura per il nuovo anno scolastico, Preside? Eh, l'anno prossimo ci venderemo qualche altra cosa.